In questa demo vedremo invece un esempio di alert sui sistemi di autovelox Ecco in questo caso stiamo transitando vicino a un autovelox mobile e abbiamo ottenuto la segnalazione C'è sia un alert sonoro che un alert visuale, quell'icona lampeggiante rossa sulla destra tra il tasto più e il meno per lo zoom Questa è ancora una interfazia di sviluppo, non è la definitiva Poi andremo a migliorare sicuramente l'aspetto grafico anche di queste segnalazioni Zoomiamo magari un po' indietro sulla mappa Per vedere dove sono i prossimi Ecco Qui sulla sinistra a breve ci sarà una nuova segnalazione La segnalazione è stata impostata per essere fornita circa 500 metri prima della presenza dell'autovelox fisso o mobile Grazie 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 e l'autovelox fisso stiamo passando proprio nei pressi tra 500 metri tra 100 metri girate a sinistra